ciao a tutti ragazzoli da san potente 3 eccoci qua sempre su watchdogs siamo a missione scommessa pericolosa iniziamola subito 8.2 sempre non so quanti atti abbia questo ho la busta aprimi aprimi tutte le porte ok abbiamo saltato filmato perché così c'è più suspense che devo fare qua oltre che a salvare la sua richiesta è stata accolta non tema membro di una banda segui la guida ok in uso chi è che la sta usando entra all'asta che devo andare qua si freccia raggiungi però c'era qualcosa da chiarare qua cioè c'è una roba qui a destra posso andrà niente beh ma non lo posso che era da fuori no va bene studio fotografia e cammina più veloce l'umaha l'umaha uh hackeriamo tutti questo è il signor crispin lo accompagno dal signor queen c'è proprio sono io eh tutta la merce insieme una parte è destinata a uno show privato ui ogni lotto ha un numero di riconoscimento teniamo l'efficienza alcuni ospiti guardano dai monitor mi dicono che lei vuole vedere il palco beh altrimenti come faccio a valutare per bene il vostro lavoro dammi qua ah che era ah dobbiamo andare da da lui si boh basta sta cavolo di affare si vabbè ma corre un po' che belle mercanzie che ci sono ma noi siamo ligi al nostro dovere ci ne freghiamo le scatole e dobbiamo ligi eh ho detto eh forse è giusto come si dice eh perché se sei il ligio noi siamo ligi boh chi lo sa ok non si può saltare dovremmo annullare ah lui Iraq non devi fare casino ah ok lui Iraq gli affari prima di tutto gli affari prima di tutto ovviamente scopri chi ha ucciso i miei ce l'hai di fronte guarda te che quanto quanto è furbo dai vieni qua Iraq io sono Afghanistan vuole scusarmi? ma state mica non devo fare solo così salta salta io ho sentiti parlare di Crispin sanno che qualcosa non fate devi andartene subito da qui il seno interrato vieni con me no non ho partito ok ma vero è tu come faccio a scappare senza farmi vedere un po' difficile eh ah vado giù di qua porca miseria porca miseria porca miseria ho sbagliato però posso ammazzarli cioè ma lui non mi ha visto ma è impossibile cioè dove dove devo andare su di qua o di là ah non ho armi perfetto mmm non ho armi neanche 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 i cosi per il black out niente niente ottimo qua è dura ma devo andare di qua devo andare di qua porca miseria ma la posso ma almeno pestare ma cioè vive con sua madre 21 noto ah mi aveva visto quello dietro cioè buh non so se è per quello se è per quell'altro devo capire eh cioè se io lo faccio fuori subito non ho pistole non ho pistole sempre in guardia beh mancava quello lì beh ok perfetto ok perfetto manca quello e basta ok ok adesso lo torno indietro neutralizzo dai e girati ok 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 nuovi ordini nuovi ordini iraq vuole il signor crispin non deve abbandonare l'asta se lo vedete dovete fermarlo oh 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 vedete di stare attento oh 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 ma cioè io dove devo andare dovrei andare non è una porta questa come cavolo faccio uscire ah lì c'è una porta e proviamo no questo arriva di qua e io vado di qua chi se ne frega andiamo su di qua meglio ricaricare l'arma ora mi vogliono tutti morti fuggi senza vedere oh perfetto ottieni telecamera adesso sblocca perfetto oh ahia no adesso mi hanno visto il cinquecento eh ti pareva ok ah sono esplosi tutti porca miseria dai però riparo no mi hanno ucciso proprio qua va bene noi allora ci facciamo così ci fermiamo qui prossimo video continuiamo questa epica battaglia per tutto qua e per bot jobs ciao ragazzuoli da sopra da 3